allora che come come la trovi sta camera sistemazione di merda sistemazione di merda no voglio fare un primo piano su su il cesso ragazzi perché il cesso è clamoroso il cesso dei giapponesi il cesso dei giapponesi praticamente ha il pulsante per lavarsi il culo non esiste non esiste il bide qua questo è il pulsante per lavarsi il culo tu ti siedi sopra schiacci il pulsante automaticamente viene fuori un oggetto che ti lava il culo fantastico